verso l'una e mezza una alfa romeo gt 2000 color argento sfreccia come un bolide 160 all'ora contromano sul lungomare d'uilio di ostia dai vie dell'idroscalo si dirama una strada sterrata che entra appunto all'interno dell'area delle baracche soltanto una delle possibili entrate e uscite ma esattamente in quel momento cioè in quello di uscire più o meno allora che il ragazzo fermato si chiama giuseppe pelosi detto pino fa una richiesta che quella di sapere dove è finito il suo anello in una notte compresa tra il 14 ed il 25 agosto del 1975 quindi pochi mesi prima del delitto avviene una cosa che non è mai più successa in italia un furto di pizze cinematografiche il fragore assordante di questa dichiarazione che colloca altre persone sulla scena dell'idroscalo insieme a pino pelosi non viene raccolto dalla questura di roma un test non anonimo dichiara che in una bisca in realtà un bar malfamato del tiburtino due ragazzini si stanno vantando di aver ucciso loro pierpaolo pasolini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti